L'Italia è in partenza per la Turchia e sicuramente c'è da lavorare su tante cose però almeno c'è un punto di partenza buono Adesso si va in Turchia la qualificazione alla Final Six è molto difficile però sono partite sempre importanti Sì, sicuramente tutte sono partite ottime in vista sicuramente dell'Olimpiade e quindi faremo tesoro anche della prossima tappa Fa un po' sensazione tornare ad Ancara dopo il torno di gennaio dopo quel passaggio fondamentale per le Olimpiadi Sì, a noi ha anche rapportato bene e ci ha permesso poi di qualificarci a maggio in Giappone quindi sicuramente sarà bello rientrare in quel parasport e rivivere un po' di quelle emozioni di gennaio Più in generale cosa ti sembra di questa Italia quando ormai manca poco più di un mese l'Olimpiade? Siamo una buona squadra Siamo secondo me una squadra ostica perché non abbiamo magari nessuna giocatrice diciamo importante che ti fa 40 punti ma siamo una squadra e secondo me bisogna lavorare proprio su questo per poter farsi di ottenere dei buoni risultati alle Olimpiadi Grazie 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 Grazie